In casa Seat debutta l'allestimento Experience anche sulla Ateca, quindi il SUV spagnolo diventa più accattivante e si va a rimarcare, a sottolineare con più forza la parte, diciamo, la dinamica off-road della vettura. Si tratta di un SUV e quindi anche l'off-road fa parte del suo territorio naturale. Sotto il cofano di questa vettura trova posto poi un 2 litri a gasolio da ben 190 cavalli abbinato al DSG a 7 rapporti e a gestire la trazione integrale troviamo il differenziale Aldex con un controllo di trazione XDS. Anche gli interni sono caratterizzati in questo senso, quindi si va a rimarcare la parte più spinta, abbiamo detto, verso l'off-road della vettura. Ma troviamo anche novità sul fronte tecnologico, quindi abbiamo il Seat Connect e abbiamo anche la possibilità di ricaricare wireless il proprio cellulare.